Signori, lei è Kelly Shaw, il nuovo acquisto del nostro film Io sono solo una lavapiatti Primo giorno di lavoro Ma che succede? Ti sei iscritta sfidando la Chef Gloria alla gara di scoltura Pessima mossa Ma già tanti guai Dimostrerai che non sei solo una lavapiatti Io ho intenzione di vincere Non sarà così semplice? Per il ciclo Magic Night, il sogno di una vita Venerdì in prima serata, sulla 5